Ben trovati al Tg Sordi di Lecce 7 Covid 2799 persone attualmente positive in Puglia di cui 156 ricoverate in area non critica e 15 in terapia intensiva lo dice l'ultimo bollettino della regione che segnala un'incidenza dello 0,92% sul totale dei tamponi eseguiti Seguiva il compagno in auto in sella ad una moto ma ad un certo punto ha perso il controllo del mezzo finendo contro una vettura che veniva in senso opposto La vittima è chiara di credito una 37enne di Casarano L'incidente è avvenuto sulla provinciale che collega Migiano a Taurisano Parà morì in circostanze misteriose nel 1999 chiesti 18 anni per omicidio volontario per ex caporale di Casarano Secondo le ricostruzioni della procura il 22enne Emanuele Scieri rimase vittima di un atto di nonnismo Tumore al seno cresce la mortalità in provincia di Lecce ed è superiore alla media nazionale I dati Istat sono riportati dalla Lilt che come ogni anno dedica il mese di ottobre alla prevenzione del tumore alla mammella Notte della Taranta appello per il ritorno alle origini raccolte 143 firme di esponenti della cultura e dello spettacolo per avviare un ripensamento della manifestazione evento ormai mercificato oggetto di deriva commerciale televisiva e l'accusa Terzo successo di fila per il Lecce che batte il Cittadella fuori casa per 2-1 Tre punti importanti per la classifica che portano i giallorossi a quota 11 punti Grazie a tutti